Benvenuti a Salajlan, una specie di parco delle favole con un paesaggio innevato. Non è propriamente un parco dei divertimenti, è un intervento paesaggistico a Grabovica, in Croazia, 80 km a sud-est dalla capitale Zagabria. Il villaggio è minuscolo, ma la scenografia è gigantesca. L'ha inventata 17 anni fa, Zlaccio Salaj. Volevo accendere gli alberi, alla gente di qui è piaciuto molto, così abbiamo aggiunto sempre più luci. Il parco delle fiabe di Salaj conta adesso più di 4 milioni di lampadine. Il successo è di portata europea. L'assetto di quest'anno per Natale lo trovate così fino al 13 gennaio.